Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella. Fratelli e sorelle in ascolto, buona domenica e buona giornata. Vogliamo raccoglierci dinanzi al Signore. Dio ci accoglie, il Figlio di Dio vive, egli viene per salvarci, il nostro volto si illumini, il nostro cuore si rallegri. Amen. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. O porte, alzate i vostri frontoni e voi, porte eterne, alzatevi ed entri il Re della gloria. Preghiamo. Padre nostro, la tua bontà, la tua benedizione, la tua grazia e la tua misericordia sono con noi e con tutti coloro che temono il tuo nome. Voglia tu benedire ciascuno di noi e tutti insieme con la luce della tua presenza. Perché, Signore nostro Dio, con la luce della tua presenza, tu ci hai dato la legge della vita e l'amore per la grazia, la giustizia, la benedizione, la misericordia, la vita e la pace. Sia l'ode a te, sorgente della pace. Amen. Sia l'ode a te, sorgente della tua benedizione, la tua benedizione, la tua benedizione, la tua benedizione, esGodθia. Sia l'ode a te, sorgente della tua benedizione, la tua benedizione, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu, Signore, sei nostro Padre. Il Tuo nome in ogni tempo è Salvatore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle Tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non Ti tema? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu discendesti e i monti furono scossi davanti a Te. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto un altro Dio all'infuori di Te, un altro Dio che agisse in favore di chi spera in Lui. Siamo alla prima domenica di Avvento e questo tempo vorrei che ci invitasse a riflettere su come i credenti possano percepire proprio il passaggio del tempo. Innanzitutto, quello che risalta è più evidente da questo testo è che c'è un tempo che appare eterno ed è quello delle difficoltà, del lamento, del pianto. Il tempo in cui i deboli nella fede, i non credenti, e spesso i credenti, dicono dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti, il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire presso di me. Ci sembra che tutto sia e resti sempre uguale, perso nel dolore che purtroppo a volte ci travaglia e ci fa gridare. Oggi tra pandemie che rialzano la testa, rumori di guerre mondiali, prezzi impazziti delle merci e bollette energetiche, hanno facile gioco quanti dicono va male e andrà sempre peggio. Ma è questa l'unica certezza che abbiamo come esseri umani? Che la vita sia un unico, grande tempo delle difficoltà? Come cristiani dovremmo invece ricordare che c'è un tempo preciso, anzi unico nella storia, quello della venuta di Gesù Cristo fra di noi. Il profeta Isaia è stato considerato fin dai tempi antichi un profeta che annuncia il Messia. Fra i tanti motivi c'è anche quello che lui usa, di definire Dio come nostro Padre. Tu, Signore, sei nostro Padre. Il tuo nome in ogni tempo è Redentore nostro. Non succede spesso nell'Antico Testamento, ma sarà uno dei motivi dominanti della predicazione di Gesù. Dio è un Padre, anzi un Padre amorevole, buono e pronto al perdono, come ci racconta la parabola del figlio al prodigo. Da Gesù in poi la profezia di Isaia si compie mostrandoci il volto compassionevole di Dio. Di compassione abbiamo un particolare bisogno proprio nei tempi difficili della vita. Ricordiamoci della venuta di Cristo come avvento della compassione di Dio per tutto il mondo. Anche per il mondo che non ascolta il Signore e anzi lo nega. Come è il tempo delle guerre, delle ingiustizie, della brutalità fra i rapporti umani. La sua compassione ci spinge a non arrenderci, a non dare il male per scontato, anzi ad impegnarci, perché anche noi si diventi agenti di compassione verso il nostro prossimo. Infine, c'è il tempo che Dio trasforma con la sua speranza. Lo sappiamo fin dall'antichità che Dio agisce e si impegna per i Suoi figli e le sue figlie. Ma quando siamo colpiti da qualche guaio ci sembra non vederlo. Ecco che Isaia ci ricorda invece che Dio poi interviene e agisce. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Il Padre amorevole che Gesù ci ha annunziato continua a dimostrarci la sua presenza fra di noi. Lo fa col suo spirito che continua a rivelarci possibilità di amore e di giustizia anche in mezzo ai mali del mondo. A noi è chiesto di tenere viva, con la fede, la fiamma della speranza. Dio ha agito, agisce e agirà. Che l'Avvento sia occasione per strapparci dalla sensazione di eternità del male, per farci vedere la vera eternità, che è quella dell'amore di Dio per noi. Amen. Dio ha agito, 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 Vieni, Dio ha agito, 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 Dio ha agito,